Musica Alcio Serie C, il tecnico del Gubbio Sandriani pensa ad alcune variabili per lo scontro diretto con la Gianna Erminio Domenica a Perugia, lunedì testa a Frosinone, Serie D, turno infrasettimanale nefasto, quello di oggi per le Umbre, calcio a 5, Visgubbio, K.O. con la Cus Ancona, volle Superlega, Sir Perugia fa suo 3-1 lo scontro al vertice con Modena, allunga più 4 dagli Emiliani, conquistando la settima vittoria di fila, città di Castello, le targhe etiche Panatron affisse in 13 strutture del territorio. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva, la TRG, il calcio e la Serie C in primo piano con il Gubbio che si prepara in vista del match diretto, scontro diretto di domenica alle 14.30 con la Gianna Erminio Albarbetti. Sandriani pensa ovviamente all'undici iniziale, in difesa Tofanari può tornare titolare a destra, mentre sulla corsia opposta Pedrelli in vantaggio sullo porto. A centrocampo ballottaggio tra Conti e Malaccari, mentre in attacco torna in auge l'ipotesi di Plescia per affiancare Marchi a scapito di De Silvestro e Campagnacci. Si è designato l'arbitro della gara di domenica che è Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. In Serie B è tornato l'entusiasmo in casa Perugia dopo le tre vittorie di fila che oltre all'ascesa in classifica hanno riacceso gli animi nell'ambiente bianco-rosso. Nel prossimo fine settimana la Serie B, come la Serie A, riposa per le gare delle nazionali. Il grifo disputerà sabato alle 15 un amichevole al Benito Stirpe di Frosinone al cospetto della compagine Ciociara, allenata da Moreno Longo, attualmente penultima in Serie A, una sfida che torna all'attualità dopo quelle tra le due formazioni in Serie C e in Serie B. Il test si disputerà a porte chiuse. E invece andata in campo oggi la Serie D nel turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata, turno in fausto per le Umbre. Due sconfitte, un pari beffa. L'unica a trovare punti è il Trestina che però lascia più di un rimpianto sul terreno della Sina Lunghese al termine di una gara incredibile. Doppio vantaggio toscano nel primo tempo, con doppietta di Lucatti nella ripresa. Gli altotiberini prima accorciano con un'autorete di Menchetti, poi impattano con Braccalenti e infine passano in vantaggio con Stagliano. Quando sembra fatta, al novantesimo Lucatti griffa la tripletta e fissa il 3-3 finale. Cade invece sul filo di Lani il Bastia dopo quattro risultati utili di fila. Biancorossi sconfitti 1-0 dal Gavorrano in rete al novantatresimo con Bruni. Al tappeto anche il Cannara, battuto 1-2 lo Spoletini dal Ponzacco. Non basta il solito Di Giuseppe e Rossoblu. Semprini e Braga regalano i tre punti alla squadra. Ospite Trestina che sale a quota 20 in classifica ed è ora settimo. Il Cannara resta a 17 in decima piazza. Bastia ha 12 punti in compagnia con lo Scandicci. Questo per il turno di oggi. Parliamo ora di calcio a 5. La Visgubbio che prosegue il suo cammino nel campionato di Serie B, anche se c'è stato un stop dovuto alla sconfitta immeritata sabato in casa con l'Ancona. Vediamo. Si interrompe dopo due vittorie consecutive la serie dei risultati utili della Visgubbio, sconfitta 4-6 in casa per mano di Cussancona nella sesta giornata del campionato di Serie B nazionale di calcio a 5. Primo tempo sull'ottovolante per il quintetto di Marco Bettelli, che approccia in maniera ottimale la gara, tanto che passano soltanto 30 secondi ed è casoli a sbloccare subito il match. E dopo 12 minuti e mezzo, nei quali la formazione gubina era nettamente in controllo, arriva l'immediata reazione degli uomini di Francesco Battistini, dapprima col pareggio siglato dall'argentino di Iorio al tredicesimo. Quindi, tre minuti dopo, la rete di Fioretti, che ribalta completamente la partita, L'1-2 dei marchigiani sembra farsi sentire sulle spalle gubine, ma proprio in apertura di ripresa è Cresto, al 22esimo, a rimettere il computo nuovamente in parità sul 2-2, ma la gioia degli gubini dura lo spazio di tre minuti, perché Fioretti, al 25esimo, riporta in vantaggio i marchigiani. Il botte risposta prosegue incestantemente, perché il nuovo pareggio gubino si materializza pochi secondi dopo sempre con Cresto, ma poi di nuovo Fioretti, al 29esimo, a siglare non solo la sua tripletta, ma, cosa più importante, l'ennesimo vantaggio per Cussancona, che, susseguentemente, trova la quinta marcatura del più due con Bartolucci. Casoli accorcia di nuovo, ma è un fuoco fatuo, perché è Junior de Sousa a fissare il definitivo 6-4, che permette ai marchigiani di salire a quota 6 punti e di portarsi a una lunghezza di distanza proprio dalla vis. Ora fine settimana di sosta per i Rosso-Blu, che torneranno in campo tra 15 giorni, quando in programma la trasferta sul difficile campo di Montesilvano contro la quotata Real Dem. E ora siamo al Valle, la Superlega, dove non ha invece soste la Sir Perugia, che fa suo il big match con Modena in un Palabarton stracolmo, 3-1 ai danni della squadra di Velasco. Vediamo. Prove di fuga. Sir Zafeti con Perugia, in un Palabarton infuocato da oltre 4.000 spettatori, fata il tabù Modena, che negli ultimi 4 anni vantava un filotto di 13 vittorie consecutive contro i bianconeri. 3-1 per Perugia, con i parziali dei set che recitano 25-22, 25-22, 23-25 e 25-16, per tre punti che permettono alla Sir di allungare a più 4 sugli Emiliani, a più 5 da Civitanova, e a più 6 da Trento. Certo, la regular season è ancora lunghissima, ma iniziare con 7 vittorie piene su 7 partite giocate e tutti gli sconti diretti vinti è un messaggio chiaro sulla volontà dei Block Davids di cucirsi per il secondo anno lo scudetto sulla maglia. L'Azimut, guidata dal fischiatissimo ex Zaitsev, autore con Atanasievic e di piccole storie tese nella coda di gara, ha provato a tenere testa ad una Sir ben organizzata in difesa, dove al timone c'è un superbo Colaci e le tali in attacco, con Leon Atanasievic, autore rispettivamente di 25-21 punti, cecchini esiziali, senza dimenticare l'energia di Lanza, la regia di De Cecco e la forza del duecentrale Ricci Potrashkanin. Coach Bernardi batte così il maestro Velasco, ma ora dovrà essere bravo a tenere i suoi sul livello attenzionale alto, perché domenica c'è la trasferta pugliese del Palaflorio contro Castellana Grotte, con l'obiettivo di proseguire la striscia vincente e consolidare ulteriormente la leadership. È partita di alto livello, secondo me, anche Modena ha giocato molto bene, ci ha messo spesso in difficoltà, ma insomma, la prima contro la seconda, due squadre veramente fortissime, sì, è presto per guardare la classifica, però, insomma, i quattro punti sulla seconda dopo sette giornate sono importanti. Quindi, bene così, benissimo, è stata veramente una grande partita, credo che il pubblico ci sia divertito, per noi era importante sfruttare il fattore campo, insomma, ci siamo riusciti, molto bene così. La promozione nei giovani, nelle famiglie, nelle società, nella scuola di sani, i valori dello sport, della correttezza e dei comportamenti, del rispetto delle regole della persona, sarà affidata a Città di Castella la posizione negli impianti sportivi di targhe etiche del Panathlon, con i principi della dichiarazione di Gande, una carta adottata dall'ONU, dall'UNESCO, dalla FIFA, dalla FIBA e dal CONI. Grazie all'adesione dell'amministrazione Tifernate, saranno 13 le strutture comunali del territorio, più palestre scolastiche e campi da gioco gestiti da associazioni, nei quali verranno affisse le tabelle che riportano due decaloghi, il diritto del ragazzo nello sport e i doveri dei genitori nello sport. A presentare l'iniziativa, tra gli altri l'assessore allo sport Massimo Massetti, che ha sottolineato come l'obiettivo di questa iniziativa sia responsabilizzare la comunità Tifernate rispetto all'impegno di condividere e adottare chiari principi di comportamento finalizzati alla diffusione di valori positivi nello sport giovanile. È tutto per il nostro OTG sportivo che andrà in replica stasera intorno alla mezzanotte 30. Ritroverete domani sul nostro sito trgmedia.it Grazie per l'ascolto. Buonasera.